Buongiorno a tutti, vorrei dire alcune parole visto che sono terminate le votazioni e vedendo i risultati del Movimento 5 Stelle, a parte la grande vittoria del sì, che sono contento così almeno molti parassiti andranno via a calci nel culo e finiscono di mangiare i nostri soldi poi al riguardo il Movimento 5 Stelle per i voti, sinceramente sono deluso assai sì, perché ho capito veramente in Italia quanto siamo ignoranti, quanto siamo autolesionisti e quanto ci piace che la gente ce lo mette nel deretano, sì, nel deretano avete sentito bene a noi ci piace proprio che ce lo devono mettere nel deretà, perché non si spiega non si spiega che una forza politica come il Movimento 5 Stelle è così basso di voti e sono deluso perché questo Movimento 5 Stelle veramente ha dimostrato che sono ragazzi che si sono messi a lavorare sin da subito, ricordiamo il Ponte Morante senza tangente, senza mazzette è stato costruito in brevissimo tempo e ricordate il Mose quanti miliardi sono stati spesi e quanti se ne sono mangiati per un'opera inutile, un'opera inutile, loro vanno ai voti e il Movimento 5 Stelle no, ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle è stato l'unico partito che si è tagliato lo stipendio, si è dimezzato lo stipendio e cosa ha servito? E chi non va a lavorare, ha più assenteismo che altro, prende voti e il Movimento 5 Stelle no, ricordiamoci anche le ambulanze nelle Marche, altri prendono i voti e il Movimento 5 Stelle no, ricordiamoci che in questo momento così brutto della pandemia se non era per il reddito di cittadinanza, veramente secondo me c'erano più vittime di suicidio che per il Covid ricordiamoci questo, però altri salgono e il Movimento 5 Stelle no, ricordiamoci i soldi che sono stati dati al Veneto, altri salgono e il Movimento 5 Stelle no, c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa che non torna proprio, veramente sono disgustato, io veramente mi vergogno mi vergogno di essere in questo paese, mi vergogno, voi siete solo grati a chi ve lo mette scusate proprio, prima avevo detto del reddito ma adesso ve l'ho detto proprio al bacio voi siete amanti di quello Movimento 5 Stelle che veramente sta facendo di tutto, addirittura pure il referendum per il taglio dei parlamentari che sono anni e anni che lo volevano fare, è mai preso in considerazione questa cosa e alcuni parlamentari molti, il 30% avevano votato no perché ovviamente la pappa era saporita, però a questo punto gli altri salgono e il Movimento 5 Stelle no e allora cosa vi dico carissimi del Movimento 5 Stelle riprendetevi tutto, riprendetevi tutto quello che vi spetta, riprendetevi tutto, riprendetevi i vostri stipendi per intero perché noi italiani, mi ci metto pure io di mezzo anche se non ci sto in mezzo, non capiamo un bip di niente, noi italiani meritiamo solo il peggio, noi italiani non apprezziamo chi lavora, noi italiani apprezziamo chi ce lo mette a quel servizio giorno dopo giorno, che in tutti questi anni ce l'ha messo a quel servizio giorno dopo giorno, veramente sono disgustato, sono disgustato che un Movimento 5 Stelle si è rimboccato le maniche e ha lavorato e sta continuando a lavorare, non venga preso in considerazione, abbandonato, siete una vergogna, quindi carissimi del Movimento 5 Stelle riprendetevi tutto, noi non meritiamo un Movimento 5 Stelle che ci governa, noi meritiamo Berlusconi, il Pagliaccio Verde, la Molonara, Renzi e chi più ne mette, questo meritiamo noi, non meritiamo il Movimento 5 Stelle, è una vergogna, sono disgustato, sono veramente disgustato, mi sarei aspettato, ovviamente ognuno ha la sua idea, ok, ma mi sarei aspettato qualcosa in più, una gratitudine in più per il Movimento, invece no, sono deluso di essere cittadino di gente ignorante, di gente ignorante, da quando è entrato il Movimento si è incominciato un po' a vedere la situazione, che dirvi, mi fate solo vomitare, veramente, sono disgustato, disgustato, non immaginavo che veramente il popolo italiano era un popolo di ignoranti, ma con la I maiuscola, ma un popolo di ignoranti è amante di chi ce lo mette a quel servizio, che vergogna, che vergogna, riprendetevi tutto il vostro che vi spetta, questa gente non vi merita, riprendetevi tutto quello che vi spetta, sta gente ignorante non vi merita, io sarò sempre del Movimento 5 Stelle, perché io, le persone per bene, le vedo da lontano, le apprezzo da lontano, e non per quella gente che tutti questi anni ci ha massacrato e ve ne votate, vergognatevi, mi fate solo schifo.